Comunque è difficile in questo momento avere le idee chiare su quel momento lì, perché evidentemente uno dovrà anche decidere a chi dare, a chi consegnare il proprio voto. Oh ma stavolta ce l'ha l'alternativa, se non è di sinistra come ho capito lei non lo è, ha la possibilità per la prima volta di poter scegliere tra Forza Italia che continua a guardare al passato, anche Bondi l'ha detto, il progetto di Forza Italia è fallito, oppure persone che con la propria faccia, la propria storia, la propria credibilità, per i valori del centro-destra però hanno deciso di assumersi la loro responsabilità creando un nuovo partito, il nuovo centro-destra che ha un unico criterio, con coraggio, con responsabilità, pensando al futuro, che è quello di dimostrare che si possa passare anche nel centro-destra dalle parole ai fatti, che non si deve sempre scaricare la colpa sugli altri, che non è colpa sempre degli altri, ma che i nostri ideali, la libertà, la responsabilità, lo Stato al servizio dei cittadini, le cose che lei sa se è di centro-destra, possono essere in questo momento usati responsabilmente per finalmente cambiarla questa Italia, la lotta alla burocrazia, la diminuzione delle tasse, le cose che stiamo cercando di fare in questi 2-3 mesi anche con il governo Renzi, mi sembra possano essere questo segnale, quindi potrà avere una possibilità alternativa, il nuovo centro-destra o il vecchio centro-destra che continua a promettere che fra 18 mesi aumenteremo le pensioni da 500-800, ma da qui a 18 mesi noi rischiamo che non ci siamo più, altro che è il futuro, rischiamo che non ci sia più niente e allora un po' di ringiovanimento e di coraggio con cui cambiare l'Italia lo possiamo giocare. Elezioni europee. Si vota solo nella giornata di domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23. Nella circoscrizione nord-ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, barra il simbolo del nuovo centro-destra e scrivi lupi come preferenza.